Negli episodi precedenti, dato che il personaggio di Bear non ha un cederbolina da fare, si reca a casa della sua amica e dopo aver scoperto che è scomparsa, si dirige in un bosco buio di notte. Potete immaginare come è andata a finire. Ma cosa succederà adesso? Scopritela nel nuovo episodio di Slumber Derrival! Scopritela nel nuovo episodio di Slumber Derrival! In questa 1.3 basta trovare 6 pagine per proseguire il ruoco, o almeno dovrebbe essere così. Non so se è così solo per la modalità facile o non lo so, comunque io sto giocando in normale quindi non ne ho idea. E magari qui vicino c'è un'altra paginetta per me in medesimo, no? No, niente paginette per me in medesimo. Allora continuiamo dunque in questo bellissimo bosco gradevole e puzzoloso. Ah, perché non l'avesse capito? Il Creeper si era bendato da solo perché aveva paura dello Slender, ma adesso sta dormendo quindi è tutto a posto. Allora, vediamo un po'. Allora, questo precipizzo non mi piace quindi penso che continuerò ad andare, che i precipizi non mi piacciono. Poi se era scritto che era stata fatta un'annotazione quando si faceva tasto destro con la flashlight, ma non vedo niente. Non lo so. E andiamo qui dentro. Allora, correggetemi se sbaglio, ma qui dentro ci dovrebbero essere sempre due pagine. O almeno penso. Correggetemi se sbaglio. Vabbè, anche se penso che in questo episodio dovremmo finire la late pages. O almeno spero. Ma comunque andiamo avanti, andiamo... Uh, ciao bella paginetta, vieni con me. Eh, siamo già due paginette, ne dovrebbero mancare quattro. No, lì la pagina non c'è. Allora, comunque andiamo dove il cielo blu solo sa toccare il tuo sede. Allora, questo bellissimo albero carino e coccoloso ci guiderà verso mondi lontani, vero il mister albero? Col chezzo... Come col ca... Bravo il mister albero! Allora andiamo verso luoghi tanto carini, sperando che non venga nessun tizio. Stavo cercando una rima con Ini per descrivere lo Slender, però... Non mi veniva in un'ora in mente, Dio almeno non volgare. Allora, vediamo un po'. Allora, lì ci sono già andato... Ah no, lì è la cosa da dove sono venuto, quindi devo andare di qua. Andrò verso quella luce, esatto, proprio quella. E spero di non incontrare nessun uomo alto, vestito molto bene, con una bella crovatta e senza faccia. Vabbè. Dov'è? Non lo vedo. A quanto pare il signorino non vuole che io vada lalle pagine, brutta figlia di buona donna. Non avevo fatto niente di male, quindi magari io potevo andare, ma lui ha detto proprio di no. E quindi io devo continuare. La la lero, la la la, non ti incastrare negli alberi. No, no, negli alberi. Non ti devi tu incastrar Oh, se vivere tu vuoi P-p-p-p-p-p-p-p Vivere tu vuoi Vivere tu vuoi Vivere tu vuoi vivere Tu vuoi vivere Io almeno penso che tu voglia vivere Questa meravigliosa vita Speriamo, speriamo Che nessun venga a prendermi E che il mio sederine faccia male Perché lui essendo piccolin Non vuole essere toccato Perché poi si fa male Ed è meglio non lo fare E comunque continuiamo Allora saliamo qui su Magari un'altra pagina Oh, ok la pagina non la prendo Va bene, va bene Oh, per me l'uso Volevo prendere una pagina Ma stavo a dire no Non puoi prenderla Invece di apparirmi davanti all'improvviso Ma dammi un messaggino A quel telefono Potevo risponderti Va va bene Deve usare i metodi volgari Ok, sentivo qualcosa Deve usare per forza i metodi volgari Da brutti Allora, di nuovo la stessa cosa di prima No, basta Non hai la pagina Quindi non mi interessi Allora Comunque Dico che se adesso non troverò la Cioè, se adesso lo Slender riuscirà a prendere il mio sederino Penso che Proverò la Con la modalità facile Almeno per riuscire a continuare questa parte Che non vorrei ripartere mille e miliardi di volte Perché il mio sederino Non lo sopporterebbe Quindi Andiamo avanti So già dove è una pagina Quindi Uh Un'altra area Magari qui c'è una pagina for me Tutank Ah Perché si è spetta la torcia Perché si è spetta questa cazzo di torcia Ok Wop Dov'è Non lo vedo Una pagina, una pagina Via, 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 via Correndo E mi corro in quella direzione Perché altrimenti c'è qualcosa qui dietro Che non vuole Che io continui Il mio baggio Oh ma quella è un'altra pagina Ok mi manca solo una pagina A quanto pare Quindi magari riuscirò a prenderla O forse no Molto probabilmente no Ma vediamo di essere ottimisti No? Speriamo Allora Speriamo che non appaia di nuovo vicino alla pagina come prima E magari Riusciremo No magari qui c'è una pagina Dai che qui c'è una pagina Ecribio dai che qui c'è una pagina Uh la la ho preso su immagine Adesso dovrei continuare No? Perché? E che c'è Cribio? Oh! Perché non continua? Oh eccolo là No 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 Andrò in questa direzione Mi sembra una scelta più adeguata Voi non trovate? Cribio laccia Allora Dov'è? Mi è sembrato di vederlo da qualche parte Perché la telecamera ha fatto strani giochetti E chissà se qui magari Un'altra pagina ci so Proveremo a cercare Dove Cristo lui ha Quindi andiamo di qua Dove Cristo lui sta Io di certo non lo vedo Quindi continuare di qua Io dovrò per forza Perché lì un muro c'è Lo so che le mie canzoni Non sono sempre eccezionali Magari non lo so mai Però noi continueremo ad andare Verso quella luce rossa Perché i miei ricordi Eccezionali Mi suggeriscono E lì c'è qualcosa Quindi dobbiamo andarli Sì cantare abbassa l'attenzione Mi aiuta molto Lo so forse le vostre orecchie Non pensano la stessa cosa Lo so ne sono molto consapevole Ma il mio cuore Ne Si C'è Come posso dire Ehm E' molto d'accordo con questo Quindi A lui piace Ehm Accontentiamolo no E' solo un curicino Allora quindi Ehm Qui la pagina l'ho già presa Ok 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 Ecco qualcosa di prima Dove potrò Prendere l'altra pagina E poi me ne manca Solo una Che non ho la più palida idea Di dove possa essere Come mai qui non c'è più Ok ok c'è la pagina Ok via 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 Ma non mi prenderai No 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 Non mi prenderai Non mi prenderai Guarda a terra Questo bellissimo muro Allora corri Cristo Perfetto Sono ancora intero Il mio sederino Il mio sederino è ancora qui sotto Sono a sette pagine Cribbio Magari troverò Troverò L'ultimo io troverò Forse in un altro futuro O forse proprio mai Cristo se questo Continua a teletrasportarsi Magari io non lo farò E comunque Il mio viaggio Continuerò La la lero La la lero La la lero La 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 Il mio viaggio Continuerò Tra queste bellissime albere Io lo so Che quello che ho detto Non significa nulla In nessuna lingua Ma mi aiuterà Ad andarmene da qua La la lero La 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 Oh cristolina Santa pippolina Sto cercando delle rocce Perché magari Il foglio è lì Perché io non La rocce Non si è mai andato E sembra superman Perché dal cielo Lui è venuto Porca la miseria Porca la miseria Porca la miseria Porca ciavacca Allora sembra che non ci sia Qui nelle rocce Uff Allora Allora Non so dove altro andare Sinceramente A trovare questo foglio E No Siamo di nuovo qua No 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 Dove caccio Di solito Di solito il mio istinto Dell'orientamento È molto sviluppato Ma Non qui Quando c'è qualcosa Che mi insegue Di brutto E di cattivo No Anche perché Non conosco bene La mappa Quindi non so Dove altro potrebbe Esserci una pagina Mi limito solo A camminare È 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 a camminare Forse in questa direzione È a camminare È a camminare Ho controllato bene Che qui non c'è Oh Cristo No non c'è Non c'è Non c'è Non c'è La pagina Allora So che non è molto saggio Venire qui Perché se mi appare davanti Sono un po' fottuto Ma Magari Una pagina è qui Perché Cribbion Non la trovo O forse È qui dentro No Non penso Che sia qui dentro L'ho già esplorato un po' E non ci ho trovato niente Proviamo a guardarlo un po' Da così Magari È veramente lì dentro Poi non vorrei Entrare In una struttura Perché nella struttura È più facile Essere Oddio Eccola Eccola Ebbè Mata pagina Su Pagina 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 Su Pagina Pagina Su Pagina 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 Su Pagina Pagina Su Pagina 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 Su Pagina E ho trovato Tutte le pagine E mi prende Oh Cristo Ah sta correndo Sta correndo Via corri di là Posso girare la videocamera Che cazzo sta succedendo Corri Bella 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 dracca Corri Bella bella dracca Non sta correndo io Sto solo girando la visuale E Corri Evviva Oh la la Sono svegliato Nell'erba Oh E giurna Perfetto Perfetto Allora Quindi Sono qui Di giorno Posso sempre fare zoom Penso di dover andare In quella casetta Allora Explored Area Come Comandi Piccolo Texto Sullo schermo Allora Vediamo un po' Devo andare lì Probabilmente Eh si Penso di si Devo dire che questo Montagna è molto più bella Molto più bella Di giorno Ah si Quanto è più bella di giorno Nessuno mai lo sarà Parabà Parabà Allora Che texture Meravigliose Posso entrare Ok c'è un foglietto Qui Vediamo un po' I mention Is my doctor Allora Praticamente Questa Piccola cosa Che abbiamo trovato Qui ci dice che C'è qualcuno Credo Kate Che Ha parlato Cioè Ha parlato del dottore Di queste sue Allucinazioni E che ha detto Che è meglio Che non gli diciamo Di averlo visto E che pensava Che andare di notte Lì E trovare E vedere Che non c'è Non ci fosse Comunque E vedere Che non ci fosse Nulla Avrebbe aiutato Le loro allucinazioni Ma col cazzo Che non c'era nulla Allora Vediamo che devo fare Explore the area Ancora Ok Ma Ulala Un'altra nota Qui E questa cosa Prima questa Allora Vabbè Quella roba Riguardava qualcosa Che devo Il pagamento Il rimborso Invece questo Allora Praticamente Qua dice che Siamo andati Alla ricerca Di qualcosa Nella foresta Poi la nostra torcia Si è rotta Perché siamo caduti I mostri ci hanno circondato Siamo caduti nell'acqua Poi quando siamo tornati a casa Quando siamo tornati a casa Stavamo guardando la tv Cioè C'era qualcuno che stava guardando la tv in modo ossessivo E non ascoltava nessuno E quindi Ha finito di scrivere O cose simili Allora Non mi dire che devo andare Qua dentro Non mi sembra un luogo tanto carino dove andare Oh Santo piripillo Salve a tutti Posso entrare? Non mi parla Non mi sembra Non mi sembra Ok Praticamente Non c'è corrente E Dice di fare Molta attenzione Un altro foglio Per me Sto a posto Cioè Sto bene Io Ok Questa cosa qui Non mi sembra Che sia stata scritta da Kate Perché praticamente Dice sto bene Il bosco è meraviglioso Perché non vieni? Ok Mi sa che questa cosa qua Non è stata scritta da Kate Eh già Allora Lì ci sono delle frecce Però voglio andare di qua Magari troviamo qualcosa Cosa di interessante No Non troviamo un cazzo Che bello Allora Quindi proviamo ad andare qua Perché devo andare qua dentro? Ok Frecce del cavolo Va bene Come dite voi Oh Perché devo andare sempre in luoghi bui? Eh? Get to the tower Ma Va bene Tra una scritta sul muro Come preferisci Solo come faccio Need to get Eh Ho bisogno di andare O di prendere Ah Ho bisogno di andare fuori O cose simili Allora Porta Puoi essere aperta? No Infatti sei troppo grande Allora Odio il fatto che non si veda niente Con questa flashlight Del cavolo Allora Devo andare Sopra l'elevatore? Levatevi dalle ma Oh E tu cosa sei? Ah Devo attivare I sei generatori Come scritto Sulla Oh cristo Oh cristo Come scritto Nella Nella cosa lì Attiva uno dei sei Generati Attiva i sei generatori Eccetera Ok L'elevatore è un powered Ho il solo strano sospetto Che mentre cercherò Questi sei generatori Arriverà qualcuno Di puccioso A spaventarmi E' una piccola Cioè Non so E' qualcosa che mi ronza Mmm Mica c'è generatori? No Però penso che poi i generatori Siano sempre allo stessa posizione No? Ok Due generatori Ok Questa cosa dei Cosi che si attivano Fa un po' paura Allora Allora attiviamo pure questo Tre generatori Che cos'era Quello? Oh cristo Devo blindare i miei foes I miei foes Che cazzoRE Che cazza? rocks No 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 Che vuoi? Oh Vabbè in culo! Vabbè in culo, stronzo! Ti è cieco! Spero che ce ne sia solo uno. Lo spero davvero. Eeeh, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Eeeh! Vabbè c'ho no letto da uèh! Ue, uèh! Uèh! Devi girare! Figlio di puttana NONO! Ah! Lasciami! Uèh! Uaaaaaah! E corri! Ah! oh cristo No, 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 vai a farti fanculizzare Vai a farti fanculizzare da uno molto bravo Molto, molto bravo Alla patente di fanculizzazione Oh, Cristo Allora Non bastano dei cavoli di cosi che ti corrono dietro Anche lo Slender No, 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 no Eh, lo sanno anche loro No, 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 no Oh, Cristo santo Oh, Cristo, che cos'è questo sento correre? Ah Ah Eh, corri sulle scale No, vai a farti fottere, troia O almeno credo tu sia una troia Vai a farti fottere, zoccola A farti fottere, tu ditto Via qua dentro Oh, Cristo, no Vai a farti fottere, troia Non osare Non osare Non osare Sei prontissimo, Cristo Non so cosa sia successo Evviva Quindi se la troietta mi prende due volte Arrivederci Ok Perfetto Oh, santo Dio Allora, a quanto pari I generatori Si trovano sempre nella stessa Ok Si trovano sempre nella stessa posizione Spero, presumo Ok Quindi questo era l'ultimo generatore che mi mancava Giusto? Sì Ok Praticamente Quindi devo solo imparare a memoria La posizione dei generatori Oh, Cristo Non mi dire che già mi sta rincorrendo Oh, Cristo Oh, Cristo Perché? No, no, no 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 Oh Ma sei una troia Evviva Allora Odio a queste troiette L'ho già detto Forse Beh, le odio E i generatori non sono neanche nella stessa posizione Porca miseria Allora Non so dove Eh, no No Troia di merda Adesso te ne vai a fanculo No 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 Ma perché questa Perché solo le altre troiette corrono così veloce e io no Oh Oh Ti piacerebbe prendermi, vero? Ma no Luce accecante della distruzione Cristo Via, 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 via Ok, 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 ok Allora Non mi dire che poi devo anche riuscire a scappare verso il generale Verso l'ascensore No Ok, adesso non so da dove salterà fuori questa troietta Allora Vediamo Qui c'è un qualche generatore No Oh, santo pdpillo Attivazione del generatore Oh Neh Ok Ok Perché una persona come me sta giocando a questo Cristo di gioco? Oh Oh Be, va, be Non basteva lo slender Adesso ho anche delle troie con la maschera da hockey Riuscirò a però sopravvivere? Scopritelo nel prossimo episodio di La Santa Raiva Complet Da poterla completare A Oh La 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 carabal Ai ai carabal